La storia di Life Attraverso il thriller esoterico di John Templar Rispecchia i tempi correnti Ci sono da fare molti controlli a bordo E nessuna di noi ha notato niente Dopo che i piloti hanno chiuso la porta Con in più un grande messaggio di speranza Che porti verso l'amore Io credevo che fosse già sceso Prima della chiusura dei portelloni Anche Tania De Domenico Finalmente in Life Tania De Domenico potrebbe essere Una delle voci più note a Milano E anche una delle voci più note in Italia Una grande doppiatrice Una professionista Un'attrice eccezionale E soprattutto lasciami dire Che sono veramente onorato Che tu ci sia nel cast Benvenuta Tania Nel cast di Life Grazie Alex Grazie mille Sono io che sono molto onorata Di far parte di questo progetto Perché è semplicemente unico Quindi sono io a ringraziare te A ringraziare tutto il cast di Life E vedrete che uniti ce la faremo Ciao Dalla trilogia di Life Sta nascendo il primo film senza immagini È la produzione più innovativa e unica Nel mondo dell'audio L'audio movie No detective Ero disperato E avrei fatto qualsiasi cosa Per riavere mia figlia Sarà come assistere ad un film Senza vedere le immagini Quindi sei tu il padre John E certamente lo sapevi La storia di Life Attraverso il thriller esoterico Di John Templer rispecchia i tempi correnti Con in più un grande messaggio di speranza Che porti verso l'amore Io devo conoscere la verità su quel libro E comprendere se può rimanere Nelle mani di un cittadino O deve essere sotto la custodia Del governo degli Stati Uniti Il percorso che l'intera umanità Ha intrapreso su una strada sbagliata Da troppo tempo E quando sei cambiato? Cinque minuti fa Ogni minuto che passa È un'occasione per rivoluzionare tutto completamente Con l'Audiomovie Diamo e vogliamo conservare la possibilità All'ascoltatore di continuare ad immaginare Attraverso la propria creatività Ciò che sta ascoltando Di John Templer rispecchia i tempi correnti Grazie.